Mai più effetto Sarno, mai più in caso di emergenza le decisioni verranno presi al buio. Entro la fine dell'anno tutti e 551 i comuni della Campania saranno dotati di piani di emergenza. Parola dell'assessore regionale Edoardo Cosenza, intervenuto a Salena ad un convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri presieduto da Michele Brigante. Al momento nella classifica italiana, come emerso dal convegno, la regione Campania è l'ultimo posto per i piani approvati in tutto 39. Ma l'assessore Cosenza non ha dubbi che con le linee guide di finanziamenti regionali, 15 milioni di euro altrettanti per i presidi territoriali, l'obiettivo massimo sarà raggiunto. Da ultimi diventeremo primi, assicurato Cosenza. Le zone maggiormente a rischio nella nostra provincia sono il Cilento e la Costiera Amalfitana. Sono infatti iniziate le esercitazioni sul campo della Scuola Regionale di Protezione Civile, che si svolgono in collaborazione con gli Ordi degli Ingegneri e dei Geologi. Sono stati effettuati a Santa Maria, a Vico, San Felice a Cancello, Salerno, Cava, Maiori, Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri, Scafati e sul fiume Sarno, nel tratto compreso tra le sorgenti di Sarno e l'uscita della vasca Cicalesi fino a Foce Sarno. Le attività sul campo serviranno a redigere la carta dei punti di crisi. E intanto, proprio per fare il punto sui piani di emergenza dei rispettivi territori alla luce delle risorse messe in campo dalla Giunta Caldoro, c'era stata subito prima una riunione coordinata proprio dall'assessore Edoardo Cosenza, alla quale avevano peso parte i rappresentanti delle cinque province campane, oltre al direttore generale della Protezione Civile Regionale, Italo Giulivo. Poi abbiamo fatto un'altra azione di giunta, che è quella di finanziare tutti i piani di emergenza della regione Campania, perché poiché solo il 39% dei comuni della Campania, ultima in Italia, ha un piano di emergenza, noi con una delibera di giunta, con 15 milioni di euro di fondi europei, finanziamo i piani di emergenza di tutti i comuni della regione Campania, con un incremento del 25% dei comuni in zona vulcanica, perché dovranno fare un piano di emergenza più complesso. I comuni possono utilizzare questi fondi, tra l'altro anche per informare la popolazione sui rischi del territorio, quando possono esserci fenomeni previsti, ne abbiamo sentito, abbiamo fortunatamente un centro funzionale regionale che ci allerta già quotidianamente su quello che sarà l'evoluzione del tempo, quindi sicuramente in questa direzione ci sarà da fare molto. Non a caso abbiamo parlato di informazione, quello che mi sembra sia mancato, insomma come si diceva all'inizio, proprio sul grande progetto del fiume Sarno. È fondamentale invece coinvolgere fin da adesso, e quindi anche per tornare ai piani di protezione civile, fin da adesso la popolazione su come si deve comportare prima, durante e dopo un evento.